Allora, partita di campionato, niente da dire, ultima in classifica, evento facile in un'ora 3 a 0, buona prestazione, che altro c'è da dire? Ho giocato bene, sì, ho provato a chiudere un po' i palloni ma purtroppo il muro mi ha sempre impedito di fare il punto bello, fanculo, peccato. Per il resto, ginocchio a posto, non molto altro da dire. Un'ora, un'ora! Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo.